Gloria, Gloria, in eccelsis Deo Oltre ad un'idonea segnaletica con il percorso per l'entrata e l'uscita Alcuni volontari devono controllare per impedire gli ingressi fuori quota All'interno invece i fedeli devono rispettare la distanza minima di sicurezza pari ad almeno un metro sia laterale che frontale Anche se non è previsto il termoscanner non potrà entrare chi ha una temperatura corporea pari o superiore a 37 gradi e mezzo e chi nei giorni precedenti ha avuto contatti con persone contagiate Appena si entra c'è una colonnina con un dispenser igienizzante Questa colonnina ha tempo record e i sacerdoti alla vicaria hanno predisposto la possibilità di acquistarla da un fornitore come pure le indicazioni dove sedersi e anche noi abbiamo provveduto Le offerte non verranno raccolte durante la mesta ma solo attraverso dei contenitori collocate gli ingressi oppure in un altro luogo ritenuto idoneo La confessione poi dovrà avvenire in una stanza aerata che permetta il distanziamento interpersonale Ancora vietati il coro in chiesa, l'utilizzo di libri per i canti ed altri foglietti Al termine sarà fondamentale igienizzare tutte le superfici Ci sono altre regole L'acqua santiera non c'è, non c'è lo scambio della pace Per la comunione il sacerdote dopo aver igienizzato le mani Dietro alle candele è nascosto un flaconcino Metti i guanti monouso Scende per offrire la comunione ai fedeli che lo desiderano I quali rigorosamente rimangono al loro posto e se desiderano ricevere il Signore restano in piedi Stendono la mano in modo da mantenere una distanza Solo nel momento in cui il sacerdote si è allontanato potranno abbassare la mascherina ed assumere il Signore È necessario prestare ancora attenzione? Molto, perché il virus è vivo e vegeto E lui è lui, non è una persona Ma cerca un corpo dove abitare, una dimora Non solo per abitarvi ma anche per riprodursi all'interno di questo E quindi bisogna stare molto molto allerta Siamo veramente in battaglia